Ciao, sono Monica Nesin, laureata in architettura, io sono Tatiana Andreatta, antropologa e oggi vi racconteremo il progetto che ci occuperà per i prossimi due anni. L'acqua racconta i luoghi è un progetto della Fondazione Museo Stoico del Trentino cofinanziato dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e ci vedrà impegnate come ricercatrici sull'altipiano di Pinè. Il tema principale è appunto quello dell'acqua, sviluppato in tutte le sue tematiche e principalmente nel rapporto che lega l'acqua all'uomo. La ricerca antropologica avrà come obiettivo quello di quali degli aspetti legati alla cultura immateriale che stavano dietro agli utilizzi dell'acqua. Stiamo parlando quindi della presenza dei gelsi, i loro corsi d'acqua, dell'utilizzo dell'energia prodotta dall'acqua per alimentare le ruote idrauliche degli uffici, quindi delle segherie, dei mulini. L'altopiano di Pinè è un territorio ricchissimo d'acqua. Abbiamo infatti la presenza di numerosissimi laghi e di torrenti. Nella mia ricerca territoriale cercherò di catalogare i luoghi d'acqua e le forme legate ad essi. Questi saranno quindi in particolare gli uffici, che sono quelle strutture che troviamo ancora presenti sul luogo, ma anche appunto i lavatoi e le fontane. Quest'analisi mi permetterà di disegnare una mappa in cui saranno visibili gli elementi che costituivano un tempo delle risorse importanti per l'uomo sul territorio. Immaginiamo quindi un futuro in cui questi luoghi saranno fruibili e collegati fra loro e potranno avere nuove funzionalità e nuove potenzialità. Il progetto crescerà grazie all'aiuto di un team di esperti che collaboreranno con noi e soprattutto grazie ai testimoni che ci racconteranno le loro storie di vita legate a questi luoghi d'acqua. Tutto questo non solo per recuperare la memoria storica e la dimensione paesaggistica, ma anche e soprattutto per una valorizzazione e una flessione futura di questi luoghi.